Il rapporto DIA che si riferisce all'attività svolta nel secondo semestre del 2016 offre un quadro dettagliato sulla criminalità organizzata nel territorio della provincia di Messina, segnata dalla pervasiva presenza di gruppi mafiosi diversamente strutturati, e conferma anche le attuali conoscenze in possesso delle forze di polizia sul locale fenomeno della criminalità. Organizzazioni, quelle del messinese, che subiscono l'influenza sia di Cosa Nostra che dell'Andrangheta, con le quali intrattiene e coltiva rapporti d'alleanza attraverso personaggi ed intermediari di riferimento, in molti casi strumentali a logiche affaristiche. Il territorio messinese, che si affaccia sul Martirreno, risente dell'egemonia del sudalizio mafioso dei barcellonesi. Le sue attività criminali, condotte per lo più da giovani leve e spregiudicate, sarebbero finalizzate a sostentamento dei numerosi affiliati in carcere. La famiglia dei Santa Paola Ercolano, per il tramite del suo referente locale, esercita invece il controllo sulla valle dell'Alcantara e nei comuni della Riviera Ionica. Anche nella città di Messina vige una ripartizione territoriale dei quartieri, nei quali le consorterie gestiscono, tra l'altro, lucrose attività illecite, connesse al controllo del gioco d'azzardo e dalle scommesse clandestine. Le recenti operazioni condotte da polizie e carabinieri hanno fatto emergere tutto ciò. Nella zona sud domina il gruppo criminale Spartà, radicato a Santa Lucia sopra Contessa e nella frazione Santa Margherita. Nella zona centro il quartiere provinciale è sottoposto al controllo del gruppo Loduca. Camaro vede la presenza del clan Ventura. Mangialupi è il regno del clan delle famiglie Trovato, Aspri, Triskitta e Coutè. Nella zona nord infine insiste a giostra il gruppo criminale Galli. Tutti i dati ed elementi contenuti nella relazione semestrale inviata al Parlamento.